Primo caso di variante inglese in provincia di Agrigento è stata riscontrata su un uomo di 70 anni di Lucca Sicula, ricoverato nella medicina Covid dell'ospedale di Sciacca. I contagi intanto frenano in provincia nelle ultime ore. Contagi nelle scuole, sanificazione questa mattina al secondo circolo didattico Sant'Agostino e scuola chiusa anche domani dopo la positività riscontrata su un familiare di un bidello. Un eccesso di prudenza evidenzia la dirigente. Con guagli idrici e ancora polemiche in relazione alla decisione dell'ATI di applicare gli aumenti dal 2019. A polemizzare oggi il centrodestra di Sciacca che critica apertamente il sindaco e il presidente dell'ATI Francesca Valenti. Terme di Sciacca al centro di un confronto all'interno dell'Associazione dei Comuni Termali. Rimangono i dubbi sulla volontà della regione siciliana di affidare i beni all'INAIL, costituito il coordinamento dei comuni costieri. Anche la Pasqua 2021 sarà all'insegna delle restrizioni anti-covid, niente processione del venerdì santo. Stessa cosa per l'incontro della domenica e la veglia pasquale sarà celebrata in un orario che consente il rispetto del coprifuoco. Ennesimo gesto di solidarietà dell'Associazione Razio Capurro Amore per la Vita che ha donato alla Caritas della Chiesa del Carmine generi alimentari destinati alle famiglie in condizioni di disagio economico. Un cordiale benvenuto e ben trovati anche oggi su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con l'informazione. Un uomo di 70 anni di Lucca Sicula è ricoverato all'ospedale di Sciacca e affetto dalla variante inglese del covid. Per i dettagli sentiamo Massimo D'Antoni. La temutissima variante inglese del covid è dunque approdata anche dalle nostre parti. Un uomo di 70 anni di Lucca Sicula si trova da qualche ora ricoverato all'ospedale di Sciacca. La cosa positiva è che i suoi sintomi sono lievi, tanto è vero che occupa un posto letto nella degenza ordinaria covid e non si trova dunque in terapia intensiva. Il fatto comunque in ogni caso riveste una significativa importanza perché pone in essere i timori di una situazione che sta registrando in effetti tante preoccupazioni in ogni luogo, visto che si è appreso che quella inglese è una variante particolarmente contagiosa. Non è chiaro in che modo il soggetto di Lucca Sicula abbia contratto il virus. A Lucca Sicula però c'è qualche timore, anche se al momento la situazione sembra sotto controllo. D'altra parte, al momento il report ufficiale dell'ASPE indica per Lucca Sicula proprio solo un caso. È probabile che il servizio epidemiologico organizzi uno screening specifico su quel territorio per monitorare eventuali ulteriori diffusioni in provincia di Agrigento, proprio di questa variante. Variante che si dice sia più aggressiva ma probabilmente non più letale del virus per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. Insomma, dopo il primo focolaio covid dello scorso anno che si era registrato a propria sciacca tra le corsie dell'ospedale, il Giovanni Paolo II rimane un nosocomio sotto i riflettori, stavolta per il primo caso di variante inglese. Curva dei contagi. Situazione rimasta sostanzialmente invariata. Nella Grigentino dove ieri è stato registrato un solo nuovo caso positivo in tutta la provincia, su 351 tamponi effettuati, migliora la situazione a sciacca dove i positivi sono scesi a 28. Sentiamo Noemi Tummiono. Curva dei contagi altalenante a sciacca. Nell'ultimo report ufficiale dell'ASPE di Agrigento sull'annamento epidemiologico in provincia, quello diffuso ieri sera, a sciacca i positivi sono scesi a 28. Il giorno prima erano 32 e il giorno prima ancora 25. Una provincia, quella grigentina, che ieri ha registrato un solo nuovo caso positivo su 351 tamponi processati, tre nuovi ricoveri, 26 guariti ed un decesso, quello della donna morta all'ospedale di Sciacca. La situazione sul territorio nelle ultime 24 ore è dunque rimasta pressoché invariata. 8 ai positivi a Ribera, 3 a Santa Margherita Belice, 23 a Siculiana, 17 a Montevago, 2 a Caltabellotta, 1 a Cattolica Eraclea, 7 a Cianciana, 1 a Lucca Sicula, 51 le persone contagiate ad Agrigento, 61 a Licata, 69 a Porto Empedocle, 38 a Favara, 32 a Campobello di Licata e Canicattì. La situazione negli ospedali vede 4 persone ricoverate in terapia intensiva, tutte al San Giovanni di Dio di Agrigento. I posti letto in degenza ordinaria Covid occupati sono 23 ad Agrigento e 2 al Giovanni Paolo II di Sciacca. A livello regionale, ieri in Sicilia sono stati accertati 478 nuovi casi di positività al Covid ed altri 18 decessi che hanno portato a 4.156 il totale delle vittime nell'isola dall'inizio della pandemia. Ieri i tamponi processati sono stati 20.864 tra molecolari e test rapidi con il tasso di positività del 2,3%. 261 i guariti e situazione negli ospedali rimasta sostanzialmente invariata con un solo ricoverato in più in degenza ordinaria dove i posti letto occupati adesso sono 726 e uno in meno in terapia intensiva dove sono ricoverati 132 pazienti affetti da coronavirus. Parte anche in Sicilia la campagna di vaccinazione anti-Covid per i disabili gravissimi. Lo ha disposto con una direttiva inviata alle ASP e l'assessore regionale alla salute, Razza. In tema di vaccinazioni effettuate, intanto la provincia di Agrigento, assieme a Caltanissetta, sono le più virtuose. Maria Genoardo. La Sicilia è tra le prime quattro regioni italiane ad avviare la campagna vaccinale anti-Covid in favore dei disabili gravissimi, fortemente sollecitata da giorni, da associazioni e dal mondo politico. Da oggi è possibile in virtù della direttiva inviata dall'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ai direttori delle ASP siciliane. Si tratta di circa 11.000 persone nell'isola che risultano iscritte negli elenchi speciali in quanto affette da patologie gravissime e che hanno sottoscritto il patto di cura. Per loro, infatti, non sarà necessaria la prenotazione tramite piattaforma digitale o call center. Saranno le singole aziende sanitarie provinciali a contattare gli utenti e stabilire modalità e tempi di vaccinazione. Il provvedimento dell'assessore regionale alla salute raccomanda la somministrazione domiciliare per i disabili gravissimi e l'utilizzo del vaccino moderna, come avviene per gli ultraottantenni che dovranno essere vaccinati a domicilio. Intanto, complessivamente, sono oltre 350.000 le dosi somministrate in Sicilia dall'inizio della campagna di vaccinazione e nel contesto regionale spicca la provincia di Agrigento che, assieme a quella di Caltanissetta, è quella che ha fatto meglio, finora, la più virtuosa. Il dato positivo agrigentino scaturisce dalla sommatoria del numero di somministrazioni eseguito in provincia per ciascuna categoria di candidati alla vaccinazione. Nel territorio dell'Aspi di Agrigento, infatti, al 28 febbraio, sono stati già vaccinati 8.116 operatori sanitari e sociosanitari, 2.685 ospiti di residenze sanitarie assistite e case di riposo con il relativo personale, 3.421 cittadini ultraottantenni, 1.378 operatori delle forze dell'ordine e 3.365 docenti e personale della scuola. Non è una gara tra Asp, ma è motivo di soddisfazione, ha commentato già ieri pomeriggio il commissario Mario Zappia, osservare come il territorio di Agrigento si collochi al vertice di questa classifica virtuosa. La sensazione a concluso è che gli sforzi per intensificare e ottimizzare le procedure di vaccinazione nell'agrigentino, con i 12 centri attivi, stiano andando per il verso giusto, nonostante ritardi su scala nazionale nell'approvvigionamento delle dosi. Sanificazione in corso questa mattina alla scuola Sant'Agostino di Sciac, lezioni sospese anche domani. Il provvedimento è stato assunto dalla dirigente Maria Rosaria Provenzano dopo che il risultato positivo al covid è il familiare di un bidello. La nostra è stata una precauzione, ha dichiarato stamattina la preside, che conferma la preoccupazione sua e di tutti gli altri dirigenti scolastici verso quella che viene già individuata come la terza ondata di contagi. sempre per eccesso di prudenza, aggiunge la dirigente, mi sento di consigliare alle famiglie di far indossare la mascherina anche ai bambini della scuola dell'infanzia. Sentiamo le sue dichiarazioni. Un eccesso di prudenza, così la dirigente del secondo circolo didattico Sant'Agostino di Sciac, Maria Rosaria Provenzano, rispetto alla decisione di chiudere oggi e domani la scuola ed effettuare una senificazione dei locali. Operazione che era in corso già stamattina, quando siamo andati a trovare la dirigente. È stato effettivamente un eccesso di zelo, come ho scritto nella circolare, abbiamo voluto predisporre questa sanificazione con personale qualificato in via precauzionale, perché al momento, ad ora, perché ormai viviamo in un continuo momento puntuale della linea del tempo, non abbiamo alcun positivo, solamente un operatore scolastico che ha un familiare positivo. Però nell'ordine e in relazione alla tutela della salute, soprattutto dei bambini che sono piccoli, e rispetto anche a questa terza ondata, che pare avere un'incidenza maggiore sulle fasce di età più basse, abbiamo ritenuto opportuno fermarci, se così si può dire, perché la scuola primaria sta lavorando in didattica digitale integrata, quindi con tutte le complicazioni del caso non si sono fermati. L'infanzia sta tenendo i rapporti, insomma, per come può, ma abbiamo voluto appunto dare un blocco, può sanificare ulteriormente, così come sentiamo nell'aria il prodotto, appunto, virucida che sta per essere trattato, che sta per trattare i locali scolastici, e vogliamo soprattutto dare un messaggio molto chiaro. Siamo in un momento in cui sono arrivati i vaccini per il personale docente. Quasi tutto il personale è stato vaccinato, d'eccezione degli over 55. Una prima battaglia è stata vinta. Pare che la temperatura vada in rialzo e questo ci conforta, però vogliamo vincere la guerra. Non si è voluto neanche attendere l'esito del tampone al bidello, il cui familiare è risultato positivo nei giorni scorsi, ma prudenzialmente chiudere per due giorni e sanificare la scuola. E la dimostrazione, qualora ce ne fosse bisogno, della preoccupazione tra i dirigenti scolastici, in ordine a quella che viene paventata come la terza ondata dei contagi e che potrebbe rendere necessario chiudere nuovamente tutte le scuole. Non preoccuparsi significherebbe essere incoscienti, però al tempo stesso, pur preoccupandoci, dobbiamo far fronte a tutte le esigenze. All'interno della scuola vengono assunte e messe in atto tutte le misure precauzionali in ordine ai protocolli anticontagio. Ma sarebbe una mistificazione dire che questa è condizione necessaria e sufficiente affinché il contagio non entri. Per cui sì, una certa preoccupazione c'è. Per esempio, io approfitto ancora una volta della vostra generosità per rivolgere ai genitori della scuola dell'infanzia un invito. È vero che il documento del 20 agosto del Comitato Tecnico Scientifico ci ha detto che non vi è necessità per i bimbi da 0 a 6 anni di indossare la mascherina, ma forse in questo particolare momento fargliela indossare sarebbe una precauzione che va a tutela della loro salute. E quindi non so in realtà se il legislatore valuterà una chiusura a tucur. È chiaro che probabilmente anche questo scenario potrebbe essere percorribile ai fini di una prevenzione e, come dicevo poco fa, della vittoria di questa guerra contro il virus che speriamo ci veda finalmente vincitori in tempi anche brevi. C'è poi anche la questione delle famiglie, chiaramente allarmato ogni volta che si verifica un caso di positività o anche di fronte ad un sospetto caso. La chiarezza nella comunicazione da parte dei dirigenti è fondamentale. Non possiamo pensare di essere fortunati se non capita mai nulla, ma dobbiamo imparare ad avere sangue freddo, calma, la gestione con l'applicazione dei giusti protocolli, per cui la chiusura per me, sì, è vero che il protocollo ci impone di farla solo in presenza di un positivo, però in questo momento in cui il diritto allo studio rimane ed è fondamentale caposaldo, ma il diritto alla salute, secondo me, ha un gradino di precedenza, abbiamo proprio voluto dire aspettiamo, risanifichiamo, sebbene i nostri collaboratori scolastici ogni 15 giorni queste operazioni li effettuano, ma oggi, come avete visto, c'è una ditta che viene da fuori specializzata, proprio per assumere il maggior numero di tutele possibile. Quindi invito i genitori a ricordare sempre che le istituzioni non possono, non devono, non vogliono e non prenderanno mai sotto gamba gli accadimenti. Intanto i sindacati della scuola di CGL Will chiedono all'assessore regionale all'istruzione di bloccare l'incremento della didattica in presenza al 75% alle superiori. Non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza, sostengono i sindacati, che anzi chiedono di valutare un incremento della didattica a distanza rispetto al 50% attuale. Musumeci, riconsideri l'aumento della didattica in presenza al 75% nelle scuole superiori. È evidente a tutti che non ci sono le condizioni per procedere in questa direzione. Lo dicono oggi Adriano Rizze e Claudio Parasporo, rispettivamente segretari scuola di CGL Will Sicilia. Non sarebbe da escludere, invece, sostengono i due sindacalisti, un incremento della didattica a distanza o della didattica digitale integrata anche negli altri ordini di scuola, evitando così di esporre a rischio contagio da Covid il personale e gli studenti. Per CGL Will scuola sono i dati diffusi dal Ministero della Salute a imporre la linea della prudenza, un aumento dell'indice di positività al 7,7% e dei ricoverati sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Per non parlare continuano del perdurare dei problemi legati alla vaccinazione dei soggetti fragili, al sistema dei trasporti nella nostra regione e alle famose mascherine FFP2 che ribadiscono sono indispensabili per il personale delle scuole dell'infanzia e per tutti i docenti di sostegno di ogni ordine e grado. Sindacati critici sin dall'inizio sulla proposta dell'assessore regionale all'istruzione di incrementare la didattica a distanza al 75% alle superiori e che si oppongono ora che la galla ha emanato la circolare, seppure concedendo la facoltà ai singoli dirigenti di arrivare gradualmente al raggiungimento dell'obiettivo. Per i sindacati della scuola la situazione degli ultimi giorni non lo consente. Bisogna considerare, dicono, che secondo le ultime evidenze scientifiche, proprio gli studenti delle superiori sono i più colpiti dalla variante inglese e che la campagna di vaccinazione del personale scolastico produrrà effetti solo fra alcune settimane. Lo stesso ministro Speranza, nelle ultime ore, aggiungono, ha invitato alla prudenza in vista del picco di questa ulteriore ondata previsto per la fine di marzo. Modificare in questa fase l'assetto organizzativo didattico nelle scuole siciliane, proseguono i sindacalisti di CGL e Will, è per noi un elemento di forte criticità e non produrrà nessun effetto positivo. CGL e Will chiedono pertanto al Governo regionale di riconsiderare la decisione di incrementare al 75% la didattica in presenza nelle scuole superiori, almeno fino a quando le condizioni non lo consentiranno. Al momento, proprio per la facoltà concessa ai dirigenti scolastici, la didattica in presenza alle superiori è rimasta al 50% nella maggior parte degli istituti. Sono 382 i bar e servizi di ristoro situati all'interno di ospedali e presidi sanitari pubblici e privati di tutta Italia, oggetto di attività di controllo da parte dei carabinieri del NAS, Nucleo Antisofisticazioni. L'attività ha riguardato anche la provincia di Agrigento, in particolare i militari dell'arma avrebbero rilevato gravi inadempienze alle restrizioni in materia di contenimento anti-covid all'interno del bar dell'ospedale di Licata, intanto da far scattare l'adozione di provvedimenti sospensivi dell'attività di somministrazione. Ci fermiamo adesso per qualche istante, restate con noi. In furia la polemica, dopo la decisione dell'ATI di approvare i conguagli idrici, ancorché fatti slittare di un anno rispetto alla ipotesi iniziale, oggi sul tema intervengono gli ex consiglieri comunali di centrodestra di Sciac, che ribadiscono ancora una volta che i loro dubbi sulla società consortile non hanno ancora trovato una risposta chiarificatrice. Sentiamo. La questione dell'acqua pubblica continua a caratterizzare confronti, ma soprattutto gli scontri politici. Non è bastato lo slittamento di un anno, dal 2018 al 2019, della decorrenza dei discussi conguagli delle bollette idriche decise dall'ATI. Dopo i dubbi manifestati dal Centro Studi dei Gasperi, che col presidente Stefano Scaduto ritiene illegittima la retroattività delle tariffe, e dopo le critiche che lo stesso il Comitato Intercomunale per l'Acqua Pubblica ha mosso all'Assemblea Territoriale Idrica, la questione è ora al centro di una polemica, nella quale si inseriscono anche gli ex consiglieri comunali del centrodestra di Sciac, i quali vanno oltre alla stessa questione dei conguagli per affermare che il mito dell'avvento dell'acqua pubblica è svanito come una bolla di sapone. Rivendicano il fatto che dubbi, perplessità, preoccupazioni da loro espressi e che li avevano etichettati addirittura come oppositori dell'acqua pubblica adesso sono diventati legittimi interrogativi e pongono alla presidente dell'ATI Francesca Valenti una raffica di domande. Vogliono sapere in particolare che fine abbiano fatto i finanziamenti che sarebbero andati perduti se la società consortile non fosse stata approvata, che fine abbia fatto l'atteso rifacimento delle reti idriche, che fine abbia fatto la questione non ancora risolta dei comuni non consegnatari di rete ed impianti, che fine abbia fatto il piano finanziario. Per gli ex consiglieri di centrodestra di Sciac è chiaro che la vicenda sia precipitata in quello che definiscono un ingiustificato oblio frutto di quella che viene definita una gestione inconcludente da parte dell'ATI. Dichiarano poi di non avere ancora capito cosa intendesse il sindaco quando aveva parlato di risultati raggiunti in materia di servizio idrico perché sostengono siamo nel 2021 ed oltre alla lunga attesa ingiustificata ancora oggi molti saccensi pagano le bollette più alte d'Italia, sono alle prese con le bollette sui conguagli idrici e in diverse occasioni per colpa dei famosi guasti sono costretti a comprare l'acqua dai privati. Insomma, lo scenario attuale non è certamente quello in cui la città di Sciac possa disporre concretamente dell'annunciata acqua pubblica ma torniamo alla vicenda dei conguagli che approderà all'Assemblea regionale siciliana vicenda su cui infatti il parlamentare regionale grigentino del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro è intervenuto per sostenere che non devono essere cittadini dell'agrigentino a dover pagare debiti e fallimenti accumulati da chi ha gestito il servizio idrico. Il deputato definisce così scriteriata la decisione dell'ATI di Grigento anche da un punto di vista legislativo dato che la legge 296 del 2006 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entrano alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Una delibera, quella dell'ATI, che secondo Di Caro non sta né in cielo né in terra perché sostiene i cittadini non possono subire la gestione allegra del servizio idrico nell'agrigentino. La vicenda è pronta ad essere discussa in Commissione Ambiente dell'ARS della quale Di Caro ha chiesto la convocazione urgente alla presenza del dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana Calogero Foti ed è responsabile del servizio idrico dell'agrigentino. La vicenda riguardante le terme di sciacca è discussa nell'ambito di un confronto all'interno dell'Associazione dei Comuni Termali sullo sfondo i dubbi relativi alla decisione del proprietario la Regione Siciliana di affidare i beni all'Inail. Intanto gli assessori al turismo dei comuni costieri agrigentini si sono costituiti in coordinamento. I dettagli nel servizio. Il sindaco Francesca Valente e l'assessore al turismo Sino Caracappa hanno investito della questione terme di sciacca all'Associazione Nazionale dei Comuni Termali. Lo hanno fatto stamattina nel corso di un incontro che si è svolto in modalità telematica alla presenza dei diversi sindaci delle maggiori località termali italiane argomento di confronto i recenti intenti della Regione Siciliana proprietaria dei beni che intenderebbe puntare sull'Inail per la cessione diretta dell'intero patrimonio. Proposito che a giudizio dell'amministrazione comunale di sciacca non trova precedenti in Italia dal canto suo l'Associazione Nazionale dei Comuni Termali ha mostrato grande interesse offrendo la massima disponibilità a recepire la richiesta del Comune di Sciacca nella direzione di quello che è stato definito un serio approfondimento sui recenti intendimenti del Governo regionale investendo dei fatti il professor Antonio Fraioli docente all'Università La Sapienza di Roma esperto in materie di termalismo sanitario. L'incontro di questa mattina indetto dalla Presidente dell'Associazione Franca Rosso ha avuto come oggetto il progetto di valorizzazione e consolidamento del sistema termale italiano partendo dagli indici negativi che a livello nazionale si sono registrati a causa della crisi economica l'eccessiva tassazione e la conseguente riduzione del potere d'acquisto delle famiglie con tutti i propositi dell'Associazione che sono stati drammaticamente e improvvisamente frenati dalla gravissima pandemia legata al Covid-19 un'iniziativa quella di oggi per mettere in campo una coralità di voci nel chiedere che sia concesse in larga misura al settore la possibilità di accedere alle risorse del Recovery Fund il tema naturalmente è importantissimo anche sotto il profilo turistico e della differenziazione dell'offerta nel territorio provinciale è peraltro questa la direzione dello stesso coordinamento degli assessori al turismo della fascia costiera della provincia di Agrigento che si è formato stamattina tra di loro c'è naturalmente anche Sino Caracappa obiettivo di questo organismo la necessità di far conoscere il territorio per la sua varietà di attrazioni spalmata su 126 km di costa da Portopalo di Menfi allicata un terrazzo naturale che si riversa sul mare mediterraneo anche qui naturalmente si punta sulle risorse del Recovery Fund per valorizzare il territorio parlando con un'unica voce ai governi della regione e a quello nazionale per portare avanti le istanze delle località turistiche grigentine e chiedere le giuste attenzioni con la programmazione del Recovery Fund che deve essere occasione per ripartire per innescare un vero e proprio processo di sviluppo anche la Pasqua 2021 sarà ridimensionata a causa Covid nessuna processione da quella del venerdì santo all'incontro della domenica la veglia pasquale dovrà essere celebrata in un orario che permette il rispetto del coprifuoco queste alcune delle indicazioni ormai quasi scontate diffuse dall'Arcidiocesi di Agrigento per il triduo pasquale dei primi di aprile Francesca Ciaccio Sarà una Pasqua ridimensionata come era nelle cose anche per il 2021 le tradizioni non potranno essere rispettate appieno per quanto riguarda le espressioni della pietà popolare e le processioni bisognerà ancora attenersi alle indicazioni date in tempo di pandemia non saranno quindi consentite e continueranno ad essere vietate fino a quando l'epidemia da Covid-19 non cesserà era ormai scontato ma l'ufficialità è comunque arrivata ieri dall'Arcidiocesi di Agrigento che ha diffuso le indicazioni per la settimana santa 2021 nessuna via crucis è cittadina nessuna lunga processione del venerdì santo anche quest'anno il piazzale del Calvario davanti la croce non accoglierà la folla dei fedeli così come la gioia della Pasqua non potrà culminare con l'incontro davanti piazza Angelo Scandaliato prima nel quartiere di San Michele e dopo rispetto allo scorso anno però il triduo pasquale potrà svolgersi nelle parrocchie cittadine con la partecipazione dei fedeli nel 2020 non è stato possibile nemmeno questo rimarrà nella storia la veglia di Pasqua in pieno lockdown quella in cui Papa Francesco celebrò la Santa Messa in una piazza San Pietro deserta il mistero pasquale celebrato nel santo triduo è il centro di tutto l'anno liturgico è culmine della vita ecclesiale e per questo si legge nella nota diffusa dall'Arcidiocesi di Agrigento va preparato e celebrato nel miglior modo possibile mettendo a frutto le varie forme di ministerialità presenti nella comunità alla luce delle indicazioni offerte dalla congregazione per il culto divino e la disciplina del sacramento della conferenza episcopale italiana considerato ormai il ritorno delle celebrazioni in presenza con l'assemblea dal mese di maggio dello scorso anno pur nel rispetto delle indicazioni ministeriali per il contenimento dei contagi queste dunque le indicazioni per la domenica delle palme la commemorazione dell'ingresso del signore a gerusalemme verrà ricordata nella messa principale con i ministri fedeli che tengono nelle mani un proprio ramo d'olivo di palma in nessun modo però si dovrà procedere al loro scambio da una persona all'altra la messa del crisma verrà celebrata il giovedì santo alle ore 9 e 30 in cattedrale ed agrigento secondo le modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni il giovedì santo nella messa verspertina della cena del signore sarà invece omessa la lavanda dei piedi al termine della celebrazione il santissimo sacramento potrà essere portato come previsto dal rito nel luogo della reposizione in una cappella della chiesa dove ci si potrà fermare in adorazione nel rispetto delle norme per la pandemia del coprifuoco ed evitando lo spostamento tra le chiese al di là della propria parrocchia dove all'interno della chiesa non è possibile preparare un luogo per la reposizione si utilizzerà come luogo il tabernacolo va da sé che dalle nostre parti il cosiddetto giro delle chiese non sia auspicabile il venerdì santo la liturgia si celebrerà così come previsto nel messale romano verrà però aggiunta nella preghiera universale l'invocazione di liberazione dalla pandemia l'atto di adorazione della croce mediante il bacio sarà limitato al solo presidente della celebrazione dopo la venerazione da parte del celebrante la croce potrà essere mostrata all'assemblea per un atto di adorazione comunitaria silenziosa da parte dei fedeli la veglia pasquale infine potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito in onario compatibile vista l'indole delle celebrazioni all'imbrunire rispettando però l'orario del coprifuoco l'imprenditore Rosario Cascio di Partanne è stato assolto dalla Corte d'Appello di Palermo per non aver commesso il reato di furto e danni dell'Enel Cascio difeso dall'avvocato Giovanni Vaccaro era stato precedentemente condannato al tribunale di Sciacca nello scorso marzo 2018 Cascio era accusato di allaccio abusivo alla rete elettrica precisamente ad un contatore collocato nel muro di cinta di un appezzamento di terreno con una utenza cessata da tempo la difesa ha puntato proprio su questo aspetto trovandosi il contatore in aperta campagna chiunque avrebbe potuto allacciarsi in modo abusivo Cascio dunque è stato assolto per quali ragioni il comune di Ribera non ha partecipato ad un bando rinunciando a 350.000 euro per potenziare i servizi dell'asilo nido comunale è quanto chiede oggi in un'interrogazione presentata al sindaco il consigliere di opposizione Paolo Caternicchia in riferimento a dei contributi destinati ai comuni facenti richiesta per progetti riguardanti percorsi socioeducativi strutturati per il contrasto la povertà educativa di minori a rischio e con particolare attenzione alle fasce economicamente più esposte il contributo massimo è di 350.000 euro per ogni singolo progetto e la scadenza del bando era fissata per ieri primo marzo all'interno del nostro distretto sociosanitario scrive Caternicchia abbiamo appreso che piccoli comuni come Burgio Calamonaci e Cattolica hanno presentato dei progetti per continuare la positiva esperienza del PAC infanzia per bambini da 0 a 3 anni del comune di Ribera invece non abbiamo alcuna notizia e vogliamo augurarci che si tratti di una nostra svista in caso contrario conclude Caternicchia e chiediamo per quali ragioni il comune abbia deciso di non partecipare al bando in questione generi alimentari donati dall'associazione Orazio Capurro amore per la vita onlus alla Caritas della parrocchia abbiata Maria Vergine del Carmelo di Sciacca questa è la nuova iniziativa dell'associazione che mira ad aiutare le famiglie in condizione di disagio economico sentiamo in coincidenza dell'anniversario della scomparsa di Orazio Capurro non potendo organizzare come ogni anno il premio alla solidarietà che è stato posticipato a data da destinarsi per il protrarsi della pandemia l'associazione a lui dedicata l'amore per la vita Olus accogliendo con spirito di solidarietà una richiesta d'aiuto pervenuta dalla Caritas parrocchiale della parrocchia Beata Maria Vergine del Carmelo di Sciacca ha effettuato la donazione di generi alimentari alla Caritas parrocchiale guidata da Don Stefano Nastasi e il cui referente è Giovanni Misuraca finalizzata a sostenere famiglie che avversano in condizione di disagio economico la cerimonia di consegna ha avuto luogo ieri presso il salone del Carmine di Via Incisa sono stati donati 600 kg di pasta 840 litri di latte 250 bottiglie di passata di pomodoro 100 kg di riso 100 di zucchero e 100 di biscotti 200 confezioni di caffè 40 confezioni di piselli ed altre 40 di fagioli 150 lattine di tonne e 90 barattoli di omogeneizzati una donazione cospicua insomma quella dell'associazione guidata da Alessandro Capurro l'ennesima opera di sostegno alla comunità L'Uni3 di Sciacca Università della Terza Età nell'apprendere con entusiasmo la notizia del finanziamento dei lavori di completamento del Teatro Popolare di Via Agato che le rilancia oggi la proposta di intitolare il Teatro Samonal musicista saccense Cataldo Amodei la richiesta dichiara Unitre motivata dal dovere civico di ricordare i personaggi che hanno contribuito a scrivere pagine significative di storia non solo locale diversi storici locali non si sono e non si sono occupati delle opere musicali di Amodei e delle sue composizioni tramandate fino ai giorni nostri C'è anche Sciacca con l'Istituto Nautico del Don Michele Arena tra le realtà inserite e coinvolte nel progetto Nautici in Blu percorso di educazione e informazione ambientale promosso a livello nazionale da Marevivo Onlus finalizzato a formare una generazione in grado di guidare la crescita economica in modo responsabile e attento alla sostenibilità ambientale al rispetto del mare e delle sue risorse ce ne occupiamo in questo servizio Sono Palermo Catania Messina Trapani Milazzo Portempedocle Sciacca le tappe siciliane di Nautici in Blu il progetto di educazione e informazione ambientale di Marevivo che si rivolge agli studenti di 18 istituti nautici di tutta Italia con l'obiettivo di formare una generazione Oceano in grado di guidare la crescita economica in modo responsabile e attento alla sostenibilità ambientale è realizzato grazie alla MSC Foundation Main Sponsor dell'iniziativa e a Grimaldi Lines Fondazione Terzo Pilastro e Caronten Tourist sono intervenuti alla presentazione del progetto tutti gli studenti e dirigenti scolastici destinatari dell'iniziativa il direttivo nazionale regionale di Marevivo Onlus ed il comandante generale del corpo Capitanerie di Porto Guardia Costiera Miraglio Giovanni Pettorino che ha esortato gli studenti all'impegno e alla responsabilità nei confronti del mare e delle sue risorse auspicando che possano diventare non solo attenti professionisti del mare ma anche bravi cittadini in Sicilia il progetto coprirà il 70% degli istituti nautici presenti su tutto il territorio tra questi come si diceva anche l'istituto nautico di Sciacca del Don Michele Arena da ieri e fino a fine aprile quasi 500 studenti avranno la possibilità di confrontarsi con esperti del settore ambientale su temi quali tutela della biodiversità impatto dei cambiamenti climatici protezione degli oceani economia circolare e importanza delle aree marine protette per il lancio iniziale è prevista una lezione collettiva a cui parteciperanno in modalità online tutti gli studenti degli istituti coinvolti insieme ad esperti di mare vivo un obiettivo oggi più che mai urgente commentano gli organizzatori la pandemia infatti si è rivelata l'ennesima dimostrazione di quanto il pianeta sia ormai stremato e formare una nuova generazione attenta e responsabile nei confronti di temi quali la tutela ambientale e il rispetto del mare è l'unico modo per non commettere nuovamente gli errori del passato quest'anno a causa della pandemia l'esperienza didattica si attuerà principalmente attraverso la didattica a distanza ma privilegiando collegamenti esterni con centri di recupero tartarughe subacque in immersione visite virtuali nei musei durante l'evento finale di premiazione che avverrà anche questo in modalità virtuale gli studenti presenteranno il loro lavoro finale e riceveranno l'attestato di partecipazione 21 alberi di ulivo uno per ogni bambino nato nel 2020 saranno piantumati a Lucca Sicola all'interno di un'area comunale adesso denominata Giardino della Speranza sarà anche collocata una targa in ceramica con tutti i nomi e le date di nascita dei neonati all'inaugurazione che si terrà il prossimo 12 marzo sarà presente anche l'assessore regionale Marco Zambuto con cui a seguire i sindaci del territorio parleranno della riforma degli enti locali sentiamo sarà chiamato il Giardino della Speranza un'area comunale a Lucca Sicola prenderà nuova vita grazie ad un'iniziativa green promossa dal sindaco Salvatore Dazzo per ogni bambino nato a Lucca Sicola nel corso dell'anno 2020 l'amministrazione comunale provvederà alla piantumazione di un albero di ulivo cultivar biancolilla simbolo dell'economia del territorio lucchese e protagonista della tradizionale festa dell'olio nel 2020 a Lucca Sicola sono nati 21 bambini saranno quindi 21 le piante di ulivo piantumate una volta germogliate tra qualche mese daranno frutto e si potrà anche ottenere dell'olio nuovo per dare ancora più importanza al significato del Giardino della Speranza l'iniziativa vuole testimoniare pure la vicinanza della comunità di Lucca Sicola a tematiche importanti come il rispetto dell'ambiente della natura e la voglia di contribuire ad un mondo più ecosostenibile ripartendo dai bambini e dai più giovani che avranno il compito di tutelare i luoghi riqualificati il Giardino della Speranza sito nei pressi della zona cosiddetta della circonvallazione afferma al nostro telegiornale il sindaco Salvatore Dazzo sarà inaugurato venerdì 12 marzo a mezzogiorno alla presenza del neoassessore regionale Marco Zambuto e degli altri sindaci dell'Unione dei Comuni Alto Verdura e Gebbia con questa iniziativa intendiamo riqualificare un'area che fino a qualche anno fa era abbandonata e piena di starpaglie e promuovere la nostra coltivazione più importante quella dell'ulivo dinanzi al Giardino della Speranza conclude Dazzo installeremo anche una targa in ceramica che riporterà tutti i nomi e le date di nascita dei bambini nati nel 2020 a Luccasicula un simbolo di speranza e di rinascita per il nostro territorio dopo l'inaugurazione con l'assessore regionale Marco Zambuto è previsto un vertice presso la sala conferenze del Palazzo Locascio di Luccasicula alla presenza degli altri sindaci si parlerà di riforme degli enti locali e delle difficoltà dei piccoli comuni nel chiudere i bilanci adesso spazio alla Mondadori dal loro rifugio sulle montagne la piccola Wong e sua nonna di Eon Lan sentono il rombo dei bombardieri americani e scorcono il bagliore degli incendi che stanno devastando a noi fino a quel momento per Wong la guerra è stata l'ombra che ha risucchiato suoi genitori e adesso quell'ombra sta avvolgendo anche lei e la nonna tornate in città scoprono che la loro casa è completamente distrutta eppure non si scoraggiano e decidono di ricostruirla mattone dopo mattone e per infondere fiducia alla nipote di Eon Lan inizia a raccontarle la storia della sua vita degli anni della tenuta di famiglia sotto l'occupazione francese durante le invasioni giapponesi di come tutto fosse cambiato con l'avvento dei comunisti e per i quali possedere terre era un crimine da pagare col sangue della sua fuga disperata verso a noi senza cibo né denaro e della scelta di abbandonare i suoi cinque figli lungo il cammino nella speranza che prima o poi si sarebbero ritrovati e così era accaduto perché lei non si era mai persa d'animo quando la nuova casa è pronta la guerra è ormai conclusa i reduci tornano dal fronte e anche Wong finalmente può riabbracciare la madre Nye Gok ma è una donna molto diversa da quella che lei ricordava la guerra le ha rubato le parole toccherà a Wong darle una voce per aiutarla a liberarsi del fardello di troppi segreti la saga di una famiglia che si dipana lungo tutto il novecento in un paese diviso e segnato da carestie e guerre dittature e rivoluzioni tre generazioni di donne forti che affrontano la vita con coraggio e determinazione una storia potenta e lirica insieme che ci ricorda il valore dei legami familiari e gli ostacoli che siamo disposti a superare per rimanere accanto alle persone che amiamo quando le montagne cantano di Nguen Fan neanche mai edito nord siamo allo sport tre allievi del tennis club Shaka sono stati convocati dalla federazione per un raduno provinciale che riunirà i migliori prospetti della provincia di Agrigento tennis club Shaka che intanto si prepara all'inizio del campionato di serie C all'organizzazione dell'importante torneo internazionale verdura resort su terra rossa c'è il servizio tre allievi nati nel 2011 della scuola del tennis club Shaka diretta dal tecnico federale Domenico Caracappa sono stati convocati dalla federazione regionale al raduno provinciale che si svolgerà presso il tennis club città dei templi di Agrigento domenica 7 marzo i convocati sono Giada Sclafani Gabriele Pagano e Calogero Liotta attraverso questo raduno la FIT conta di riunire i migliori prospetti della provincia di Agrigento con l'auspicio che abbiano una costante crescita agonistica nel settore tennistico tennis club Shaka che con Franco Sclafani Enzo Colletti Domenico Caracappa e tutto il team si prepara emergenza covid permettendo all'inizio della nuova stagione ai nastri di partenza per la stagione 2021 il sodalizio saccense presenta sei diverse squadre ossia la squadra maschile in serie C la squadra maschile per la serie D3 la squadra under 10 misto la squadra maschile under 12 la squadra maschile over 45 lim e la squadra maschile serie 65 infine ma non per ultimo il tennis club Shaka sarà organizzatore e protagonista del prestigioso torneo internazionale Verdura Resort Sicilia su Terra Rossa che si terrà dal 30 ottobre al 6 novembre il torneo sarà una delle tappe del 44esimo circuito Grand Prix Over l'unica in Sicilia nelle prossime settimane si conosceranno maggiori dettagli sul torneo che dovrebbe prevedere gare di singolare maschile singolare femminile doppi doppi misti e tornei di consolazione Con lo sport si chiude il nostro telegiornale grazie per essere stati con noi vi ricordo che torniamo puntuali nei prossimi TG con tutti gli aggiornamenti grazie ancora arrivederci Grazie a tutti